Ciao a tutti, io sono Frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su The Last of Us parte 2. Erano spari quelli? Spero di no. Allora, siamo arrivati alla stazione tv, dove dovrebbe esserci... ...Lia? No, penso sia il vento. E la ragazza che dobbiamo interrogare. Allora, saliamo, presumo che sia questa la direzione dove andare. No, questo è troppo alto. Abbasso un po' il volume delle mie cuffie. Qui qualcuno è già passato, a quanto pare. Tommy? Devi dirci qualcosa? Eh sì. Ah, è un fucile, è uguale al mio, solo che è di un colore diverso. Allora, abbiamo anche il silenziatore. Vediamo di usarlo. Ah, qua c'è una freccia. Let's get inside. Come entriamo? Dai, ok. Andiamo, e li andiamo. Epla. No. Ho consumato una... Ah no, non lo consumo se non lo uso contro una persona. Mi sono spaventato per un attimo. Vediamo cosa c'è qua dentro. Ci saranno infetti? No? Spero di no, in realtà, perché c'è, se è già passato Tommy... Ricordiamoci sempre di esplorare. Che magari c'è qualcosa di nascosto, qualche collezionabile. Allora, qua c'è una borraccia. Questa cos'è? Dell'acqua. Questa è stramorto. 3 su 5, e il mio è 3 su 5, è uguale. Quindi non... Non mi cambia nulla. Quaggiù? Ci vede qualcosa? Non sembra. Qui non c'è niente. Il termo è stato per regolare la temperatura. Magari la regoliamo un altro giorno. Qua non c'è nulla. Vabbè. L'unica cosa che possiamo fare è entrare qui. Allora. E niente, abbiamo tutto al massimo. E dove devo andare, allora? Questa via mentre non si apre. Questo dubito è che si sfondi. A me lo credo ci sia qualche impalcatura. Aspetta, aspetta. No? Non sembra. Ok. Torniamo indietro allora. Magari ci siamo persi qualcosa. Sì, magari se mi indichi quello senza camminare. Io stavo guardando il quadro e ho detto, boh, non mi fa entrare agire. Ah. Ok, Tommy. Ti sei un po'... dato da fare, vedo. Eh sì, queste sono le iene. Eh, penso proprio di sì, Lia. Penso proprio di sì, Dina. Penso che siano ancora qui. Infatti facciamo moltissima attenzione perché sembrano molto pericolosi. Questi ragazzi non scherzano. se si mettono a impiccare e sbudellare la gente. Solamente per mandare un messaggio. Nostro al massimo. Una bottiglia. Ho due colpi di silenziatore. Questo? Esplosivi? Non ne ho abbastanza. Il nastro me ne sta dando a schiaffi. Follow me, follow me. No. Peccato. Esplosivo e pistola. Questi ci servono. Ok. E quindi dove dobbiamo andare adesso? Di là, vero? Spero di aver esplorato abbastanza bene. Allora, qui non si va. Non vorrei sermi perso qualche collezionabile, più che altro. Questa sarà chiusa, ovviamente. Sì, perché dobbiamo abbastanza nel cornicione. Non penso che tu la troverai intera. Ammunizioni. Questa fucile a pompa. Questa è chiusa? No, è aperta. Aspettate allora. Esploriamo. Vediamo cosa troviamo. Vabbè, qua non c'è nessuno. Possiamo anche camminare, dai. Noi ci mettiamo troppo a tempo. Allora, non sembra esserci niente. Cassetti apribili. Non ce ne sono. Almeno che nella scrivania io non abbia... Non mi sia perso qualcosa. No. Non è apribile. Vediamo qua, invece. Qua mi sembra... Un posto dove ci può essere qualcosa. Infatti, carta collezionabile. Kimimela. L'amica degli animali. Kimimela Green. Sulla strada per proprio chi dice... La giovane Kimel Green tentò inutilmente di ritenere giustizia. Sentendosi impotente ha deciso di trasformare le sue competenze in un mezzo di lotta politica. Dopo numerose notti mise a punto un dispositivo che le permetteva di comunicare telepaticamente con la fauna di ogni tipo. E... Porta i suoi amici animali nei paesi in cui l'avidità e i conflitti civili costringono le persone ad abbandonare le proprie case. Ok, quindi... E quando i prepotenti non vogliono sentire le ragioni, lascia che siano gli animali a convincerli. È vero che quell'orso potrebbe essere molto convincente. In effetti. Allora. Saliamo sopra adesso. Anche perché giù non si può andare. Aspetta, aspetta. Adesso ci arriviamo. Non posso mandarmi la vita massima? L'ho già fatto. Che paura. Dì, sei impazzita. Dina è impazzita. Fa chiasso. Vabbè, qua ci sono molte robe ma non possiamo usarle. E a questo punto... Va bene. Dovremmo lanciarci da là. Trovata. Cos'è che sta facendo questo rumore allora? Ah, viene da lì dentro. Sì, va, sarà una radio. Dina. Hmm. Tutti chi? Tutti chi? Ah, aspettiamo. È il nuovo Jackson. Guarda i loro f***i smili. Ah. Quindi sappiamo chi sono tutti. Abby e Owen. È il primo che ha ucciso. A proposito, Abby non ce la fanno più usare. Dopo che ha fatto quella cavolata, vabbè, l'ha fatto bene. Però, sarebbe stato divertente conoscere, cioè, sarebbe stato interessante conoscere la storia di Abby perché l'hanno fatto. Però, lo scopriremo più avanti, presumo. No, non è dovuta money. Certo. Non è dovuta, non è dovuta. Ehm. No, è quasi... Come si sceglie? I pensi che non non parlavano... ...è? Ovviamente! Non posso scendere da qui vero? E dobbiamo andare a ammazzarli. Da dove usciamo da qui? Da dove siamo entrati? Allora, piano piano... Cerchiamo di prenderla con calma. L'ho visto, non preoccuparti. E sono due! Dina, devi esserci eh? Non, 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 non. Uno! Uno! La mia shotta però. Cerchiamo di fuggire senza fare troppo casino. Cazzo. Cazzo. Cazzo! 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 No! Questi mi fanno il culo! O la faccio stealth o mi ammazzano questi. Vabbè, questi due sopra. Ok, no. No. E' un problema lasciare la gente lì sopra. Questa cosa è mattone e dei pezzi. Dove dobbiamo andare, Dina? Dove dobbiamo andare, Dina? Chi ci vede? Dove ne vai a cagare? Questa cosa? Questa cosa? Questa cosa? Questa cosa? Cavolo No dobbiamo dimezzarli Vieni Merda Tu sei troppo curiosa Devo terminarti per forza Allora sono arrivato da una finestra L'ho visto Merda Vai via Vai via Sì sì Che cazzo Eh no Eh vabbè non va bene così dai Non vale Non vale Piano 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 Lo sei cercata Basta io ammazzo tutti E adesso la vede Quello sta scendendo Non è vero Era già morta Eeeh Eeeh Piano 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 Che culo Cosa cazzo stai facendo Dina Dove? Oh mio dio ci deve essere qualcuno che sta uccidendo tutti Ragazzi Ragazzi state attenti E' pericoloso stare in questa zona Quanto pare Dovresti fare molta attenzione Molta attenzione Molta attenzione E' io che volevo fare piano Va bene Abbiamo ripulito l'aria abbastanza in fretta Li sento da questa parte Dove li senti? Ah stiamo andando via Andiamo sì Veloce 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 Dina muoviti Attenzione Andiamo qua dentro In fretta anche E se fosse l'unica uscita quella? Allora Ormai siamo scappate Ma che cosa Vai Ah qua ci sono bestioni Me lo ho sparato anch'io Lo ho sparato anch'io No 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 Ah sì Allora Ho sentito che hanno giocato Jordi, anche se non c'erano. Dio. Facciamole ammazzare la vicenda. Il calone è morto. Vabbè ragazzi, si mettono dei pezzi di merda. Scusami, perché hai smesso di aggredirli? Scusami. Noi ce ne andiamo, ok? È vero che non posso con le armi. Allora, piano piano eliminiamo tutti. Una. Una. Voi le avete fette incazzare. Guarda come si è scriptati, guarda come si è scriptati, guardalo, guardalo, guardalo. Guarda come si è scriptato! Ho sparato! Va bene ragazzi, a questo punto direi di chiudere qua l'episodio. Noi ci vediamo al prossimo, sempre qua, sul mio canale. Ciao a tutti. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e lasciate un mi piace. Noi ci vediamo sempre qui, sul mio canale, con il prossimo video. In greenhouse. Ciao a tutti! Che fatta? in